Ma sei ancora vestito Giuseppe! Ma se non faccio con la mani di sinistra? Ma no, le gambe, le gambe! Ma pure le gambe? Ma si! Usa tutto! Ma qua c'è la bici, quello è il problema! Eh prendi anche la bici! Prendiamo pure la bici! Se arriva il panone cosa roba? No, in un altro caso mai scasso i frame Dai mettevi in questa cosa qua, almeno raccogliamo sti soldi e finiamo! No, ma sarà una cosa lunga! Vai tranquillo! Tieni un attimo! Continua a filmare! In questo punto usiamo... Come merce di scan! La preparazione dell'insalamato! Giuseppe non ti devi dare da fare che qua vediamo una cosetta qua! Questo... il cappello? Tu voleva! Il cappello voleva prendere quelle pagliette! Tu voleva! Io li girerei un po' Sì, mi sa che il flusso ti gira dietro! Sì, mi sa che il flusso ti gira dietro! Vai fare una vicinezza! Non ti preoccupare! Eliminato! Ok! Dovresti avvicinarti al mutuo! Io non so come spiegartelo! Abbiamo... Abbiamo passato del proteso! Devi pagarti almeno il gelato! Ci parli di me e sono libero! Devo parlare in inglese! Eh... 3 in inglese! Sì, ma qua non vedo passare nessuno eh! Mi raccoglietti in attiva! Non sono i maganini liberi! Fate un'offerta a questo povero uomo! Purtroppo si deve sposare! Ma li prendo quello da gallo! Li prendo le orecchiette! Sì! 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 No! E niente eh! Ma proprio zatti! Niente! No! No! Scusi, ma lei da dove viene? Ma io mi puoi dare! Vengo da giù! Sì! Sì! Di riuscire a pagarti già... Di arrivare a 2 euro e mezzo! Non è che di arrivare a 100 euro! Ma in mezz'ora che sto... Ui! Mi sono meno di niente! Io non c'ho... Quanto che... Ma sei da Roma! L'ho vissuto 10 anni! Vediamo un po' se cosa delle rose ti dà qualcosa! Eh? Devo raccogliere anch'io soldi! Se non raccogliere soldi mi lascia così! Niente! È bloccato! Deve raccogliere un po' di soldi! Altrimenti non si può! 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 Giuseppe gli dati da fare! Ecco che aiuta! Oh! Così non si può! Oh! Un bel supporto alla... No! Dai! Non perdere la speranza! Ma non si sta... Ed... Non si prende! Non c'è di capire! Non si prende! Non si prende! Non si è capendo! Qualcuno mi dà una mano? Ma dieci? Non ci stanno i capelli, non si prende. Mettiti a favore. Facciamo una cosa, tieniti qua. Ma passiamo qua. La girate un po' più qua. Che bello che sei. Se qualcuno mi aiuta, mi mando così. No, ancora no. Rimani così. Ma quanto devo stare così? Fate un'offerta a questo pover uomo. Grazie. Quanto sei? Porca voia. No, no, io non posso liberare. Un'offerta per questo poverù. E c'è il muro tuo, allora. No, non ce ne metto proprio pochi. Perché se ne metto troppi ti ridi troppo in fretta. Rimagano così, così c'è un tempo di... Ma quanti anni hai? Ma quanti anni hai? Io 40. A 40, mi dimostri meno. E vabbè, cosa ti vuoi scusa? A 40 anni sei stato... Ma sariata? Non può più tornare indietro oramai. Non può più tornare indietro. Come no? Mi chiamate per le pomponiere. Hai lasciato. Mi chiamate per le pomponiere. Non si può. A alcuni. Ciao, grazie. Grazie. Come dici grazie? No, no, arriviamo a 5 euro. Allora, 5 euro, 2 euro e mezzo, no? Eh, troppo in fretta hai fatto. Se mi chino l'altro po' mi libero me solo. Eh, però non si vede che hai dato quello. Si è slegato? Eh, no, della porta sotto è sceso. Mi mancano ancora 50 centesimi. Ah, è un'offerta per questo pover' uomo. Ma tu non hai fatto 50 centesimi? Hai fatto il 3,2,50. Questa è l'opera? Ah, ma c'è. Grande. Come buca? Conta, conta. Hai detto che ti mancavano? E adesso ci sono 50 centesimi. Noi diciamo così, però in realtà, lo temiamo ancora un po'. Ah, cioè per liberarti. Mi pare scato. Non sono riuscita a liberarti. E qua. E poi non c'è la vostra crescita. Scusa. Sono 16 anni che sono sposata. Non lo fare. Comunque è la prima londa che me lo dice. Mia mamma è 38 anni. Mi ha un figlio. Anche lei. Non lo fare. Bidati. C'è ancora tempo allora, come mi dicono. Oh, bello. Oh. Grazie. Vai, c'è. Devo stare ancora. Vai, vai. Ormai è fregato, comunque. Sì. La settimana. Ormai gli tocca. Sì. Ma in una settimana cambia tante cose. Il mutuo non lo estingue, mi sa. Da sto giurato ce lo prendiamo. Dobbiamo farlo come lavoro questa cosa. A quanto siamo, perro? 3,80 euro. Eh, beh, è buono. Vabbè, direi, allora... Senti, ma io direi, non ce ne andiamo, lo lasciamo qui ancora. Domani veniamo a riprendersi. Senti, ma io direi, non ce ne andiamo a riprendere. Bene. Bravo. Questa è quella che dici? Non fa scappare i clienti, però. Un'offerta per quest'uomo. Eh, poverino ha deciso di sposarsi, eh. Ma scusa, la saluta per prescrizione e io no. Tutto depenalizzato. Anche lui in inglese gli è andato. Sì. Non sa capire perché. Non sa fosse una cattola. No, le arricchette tienile, che è il tocco di clava. No, guarda che... Valgono... Valgono il gelato. Non è che le arricchette non ti passano il riso. Ma va la stessa. Mi sa che è colpa delle orecchie. Giuseppe, deve uscire le... Ancora... Annaggia, non ti muovere proprio. Mannaggia! Ostia. Oh, scusate. Questo è accattivante, bravo. Questo la riutilizzerei. Questo la riutilizzerei. Vai, vai, guardalo. Prima che sia troppo tardi. Prima che sia troppo tardi. Il clame, mi hanno trovato il clame. Giuseppe, Giuseppe, il clame. Prima che sia troppo tardi. O se è giovane, se è vecchio, aiutami, tu che sai. Tu che ne sai, tu che ci sei passato. Sembra che c'è il ballo di sentita. Adesso a sinistra. Ma non tutte le mani portano un net club. Il vostro... Ma così ci divertiamo di... E' troppo facile. Se guadagniamo tanto, magari lo portiamo poi. Se volete venire, dopo andiamo al castello che si balla in piazza. Belli del sud, però. Del sud Italia. Se volete. Siamo un po' di persone. Diverse 50-60. Un po'. Sì, sì. Sono tutti gli invitati. Nessuno fa qualcosa. No, no. Dai, è un'offerta. Girati, girati. Attacca, attacca. Anche ancora poco. Anche di liberato. No, questo è questo, sì. Fanno lente, quindi è il tempo di fare tutto il discorso. Esatto. Adesso un po' di pippi sulla gamba. Si sposa. Eh, sì. Sampato prossimo. Ma dicevo, o si sposa o gli amici sono proprio un bastardo. Tutte e due, però. Non è che si imbarazza. No, infatti. Ah, lì sono gesto. Addirittura le tre sono andate via, sì. Proprio, manca sono arrivata. Cioè, ti ha mostrato il posteriore, piuttosto. Il claim, usa il claim. Prima che sia troppo tardi. Per bloccare la gente. 13 minuti. Cioè, sta scendendo da pesa. Ma c'è un limite di tempo, no? Oh, chiedi a quello delle rose. C'è su, ma c'ha ragione. Guarda. No, no, non preoccupare. Non ti preoccupare. Non ti preoccupare, devi raccogliere il tempo per il benigilato. Sì. Poi la metti in mezzo, così blocca. Rieschia laminata, eh. Nino caffè, Nino caffè. E magari anche troiari. Vai, attacca, attacca. Va, va, gira, gira. Tranquillo, tranquillo. Vai, vai. Un'offerta, un'offerta per quel podro, ragazzo. Ti rovini addirittura. No, 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 no. Sì. Grazie a tutti. 50 euro? No, almeno due gelati. No, almeno due gelati. Dai, neanche 50 centesimi, su. Grazie, grande. Quanto c'hai? 3 euro? Altri due? Sì, sono i carceri. Fortunato che 4 sono due ore e mezzo. No, era il tavolo che non c'era ancora 5. Ma c'è un'altra volontaria qui. Wow! Troppa generosità. No, no, guarda pure. Ma che mi toglie? E' passato il magnaccio. Direi pasta. 50, 4, 4,50, 4,70. 30 centesimi. 30 centesimi. Senti, ma lasciamolo qua, pigliamo, ci vediamo fra qualche ora. Capri con la polizia. Dai, ancora 30 centesimi. Ecco l'orre. Io ce l'orre. Sì. Non chiedeteci le manette. Per favore. Serve manganello. Dopo che mi liberano, sì. Pestiamo anche questo? Niente, Giuseppe. Niente. O male. Non si capisce ancora bene. Una manganellata poteva andare così. 30 centesimi, Giuseppe. Non matta, canto. Dai, ce la puoi fare. Dai, Giuseppe. Con figo. Dai, 30 centesimi. Non c'entrò niente io. Sto facendo una sauna. Anch'io. Un caldo assassino. A un posto più tracchicato. Più più tracchicato di qua. Dai, adesso arrivo a gruppo. Mi raccomando, eh. Accattivate. Il claim, il claim, Giuseppe. Potrebbe succedere anche a voi. Prima che sia troppo tardi. Da qui. ho i miei occhi da bucciolo 30 centesimi Giuseppe questo lo puoi aggiungere anche al CV puoi metterne al CV aggiungi in fondo 30 centesimi ce la puoi fare gli mancano 30 centesimi eh cazzata male puoi prendere che resta se vuoi ma se però lo sciogli eh eh no ci diamo, sono 30 lo sciogli dopo finito Giuseppe grazie